Faruk, Farioli ai nostri microfoni, allora direi che è stata una partita limitativa, è stata una battaglia è stata una battaglia, lo sapevamo, loro sono venuti qua consci del fatto che potevano farcela effettivamente ci hanno messo in difficoltà, bravi noi a non mollare anche sotto di 14-15 punti nel primo tempo insomma una bella vittoria, adesso ci riposiamo e ci prepariamo per il prossimo turno avete 10 giorni per ricaricare le batterie, si tratti anche più forti della sfortuna con l'infortunio di Carrizio che poteva limitare ulteriormente le rotazioni con un Rombaldoni non al meglio sì, per noi è un giocatore importante Manuel, però l'hanno sostituito in maniera direi stupenda siamo un gruppo di 10 e tutti fanno la loro parte poi l'applauso del Tagliercio che ripaga degli sforzi questa sera è fantastico, in alcuni frangenti magari complice anche le situazioni che ci sono state durante la partita però è stato un pubblico stupendo, ha fatto un casino incredibile e pensiamo che ami moltissimo Farioli perché dimostra di valere la maglia che porta spero, ci do il cuore, io ci metto tutto poi a volte si gioca bene, a volte si gioca male, però ci do sempre tutto grazie, allora Massimo Farioli